Le stelle di Azus Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 18 luglio. Ariete, la vostra testa è fra le nuvole a causa di questa venere magnifica al vostro fianco. L'amore è la prima preoccupazione e la luna continuerà ad alimentare un sogno. Toro, in mattinata sarete molto vispi, pronti a farvi valere e a mettervi in mostra con le vostre doti migliori. La fortuna vi assisterà in ogni iniziativa. Gemelli, una gran bella luna renderà la serata molto interessante da un punto di vista sentimentale. La passionalità salirà alle stelle e sarebbe il caso di non farsi desiderare. Cancro, altra giornata fortunata. Forse sarete costretti a spendere del denaro, ma lo farete per qualcosa che vi renderà felici. In amore potete contare su una luna magnifica. Leone, siete giunti ad un cambiamento a cui forse state lavorando ormai da tempo. È il momento di chiudere un rapporto professionale o sentimentale o trasformarlo in qualcosa di diverso. Vergine, la luna opposta è mattinata. Avete forse qualche impegno noioso a cui far fronte? Cercate di mascherare il disappunto. L'amore può essere però stimolante. Bilancia, certi rapporti ormai sembrano maturi. È inutile continuare a sperare che crescano. Se siete felici dovete suggellarli, altrimenti cambiate strada. Scorpione, con la luna in pesci l'amore è tornato a far battere forte il vostro cuore. Lasciatevi travolgere da questa onda emotiva senza opporre troppa resistenza. Sagittario, ancora un po' storditi nel corso della mattinata. La luna ha portato a galla anche qualche piccolo acciacco fisico. È per questo che non vi sentite in forma, ma la serata si prospetta magnifica. Capricorno, molto dinamici nel corso della mattinata. Sarete attivi, avrete voglia di muovervi, di frequentare posti nuovi. Poi, nella seconda parte della giornata, vi sentirete stanchi. Acquario, inserato una luna meravigliosa porta novità importanti che riguardano l'amore. Potete conquistare definitivamente l'oggetto dei vostri desideri. Fatevi avanti. Pesci, luna ancora nel vostro segno per tutta la mattinata. Continua a sostenere i vostri progetti. Approfittatene per liberarvi delle preoccupazioni che vi attanagliano. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook alla pagina Oroscopo di Azus. Grazie a tutti.